ulanzi mi ha mandato due illuminatori led rgb di per un tutorial che pubblicherò prestissimo sul canale ma intanto vediamo come sono fatti e questi sono i due illuminatori che mi sono arrivati togliamo questo più grande che sembra anche il più interessante e iniziamo a vedere cosa c'è in questa scatola più piccola c'è questo cavetto che comunque usb c e serve suppongo per la ricarica abbiamo il piccolo illuminatore che adesso andremo a vedere nel dettaglio e l'immancabile libretto di istruzioni scritto in lingue fantasiose ma vedi c'è anche l'inglese e vediamo come ha fatto questo piccolo illuminatore il peso discreto sembra insomma qualche cosa dentro ci sia non sembra la solita cineseria che dura cinque minuti questo diffusore davanti sembra anche lui ben realizzato adesso lo accendiamo e vediamo come va sul retro abbiamo i pochi comandi necessari il connettore usb tipo c un piccolo display che ora vediamo a cosa serve questa indicazione che ci guiderà poi nel selezionare il colore nella modalità rgb qui dietro questo simbolo ci informa che c'è un magnete dunque possiamo attaccarlo a superfici metalliche senza bisogno d'altro intorno ci sono questi attacchi del tipo cold show e vedi ce n'è uno su ciascun lato e questo invece abbiamo il classico connettore per cold show e che ci permette di conseguenza di collegarne eventualmente altri tre intorno a questa unità quindi possiamo virtualmente ingrandire questo illuminatore proviamo ad accenderlo vediamo se c'è un po di batteria il flicker che vedi credo sia dovuto essenzialmente alla frequenza di ripresa perché io a occhio non percepisco questo problema vedi che le indicazioni sono la temperatura di colore e la potenza in questo momento con i comandi possiamo regolare la temperatura di colore quindi possiamo abbassarla e vedi quindi andiamo dai 9000 kelvin fino ai 2500 kelvin con la potenza siamo al cento per cento e questa è la quantità di luce che puoi aspettarti insomma vedi discretamente intensa considera che sto girando a 200 iso f4 e un cento venticinquesimo di secondo quindi l'intensità è diciamo sufficiente possiamo poi passare alla modalità hsl tenendo premuto questo pulsante vedi abbiamo da questo lato l'indicazione della componente h e da quest'altra l'intensità dunque non possiamo regolare la saturazione ma possiamo cambiare il colore della luce vedi con quanta facilità lo mettiamo a una potenza un pochino più bassa così ti faccio vedere ancora siamo al 15 per cento che direi va bene e possiamo vedi ti posso mostrare che cosa succede cambiando il colore della luce quindi possiamo ruotare per l'intero spettro ma non possiamo cambiare la saturazione in compenso abbiamo una gamma per quello che riguarda la temperatura di colore piuttosto vasta ti faccio vedere anche l'intervallo di temperatura di colore così siamo con quello che potrebbe essere una candela e mano mano saliamo fino ad arrivare ad una luce realmente molto molto fredda volevo mostrarti i led davanti vedi in questo momento così riusciamo a vederli che il diffusore si riesce a diffondere ma è molto vicino ai bulbi e di conseguenza anche se non avrai ombre multiple è evidente insomma che i singoli punti luce sono visibili se lo guardi direttamente ma in questo momento siamo all'un per cento della potenza anche il pulsante d'accensione sembra fare il suo dovere e non pare che possa accendersi per sbaglio insomma fa una discreta resistenza è sufficientemente piccolo da non accendersi per sbaglio nella borsa e andiamo a vedere quello più grande che come vedi è marchiato di gym me l'ha inviato sempre ulanzi e vediamo un po come è fatto prima cosa che troviamo è l'illuminatore stesso eccolo qui abbiamo un cavetto di nuovo usb c piuttosto lungo e anche il cavo sembra di buona qualità bello e robusto un supporto per la slitta flash di dello stesso colore del braccetto oppure questo parrebbe insomma discretamente realizzato e il solito libretto di istruzioni scritto in lingue improbabili che in questo caso comprendono anche l'inglese e in fondo alla scatola ho trovato anche questa brugola che servirà per stringere le viti dell'illuminatore principale e questo è il nostro illuminatore è tutto costruito in metallo il braccetto può essere articolato in varie maniere mi ricorda molto quello di un altro illuminatore rgb piuttosto simile ma di certo non uguale che avevo già recensito sul canale anche questo è magnetico dunque può attaccarlo alle superfici metalliche senza l'uso di alcun accessorio anche qui abbiamo il connettore usb c per la ricarica un attacco da un quarto di pollice per collegare o la slitta che abbiamo visto oppure un qualunque altro accessorio con questo passo e vedi che la slitta può essere attaccata a uno qualunque dei fori che troviamo anche sul braccetto e qui di lato abbiamo tutti i controlli cioè il pulsante d'accensione il cursore per l'intensità e pulsante per regolare i modi e il selettore per spostarci all'interno del menu e ti mostro il dettaglio del display ho abbassato la luce generale quindi quello che vedi è praticamente solo quello che in questo momento sta illuminando il nostro piccolo illuminatore il selettore della potenza questo cursore regola sempre e comunque l'intensità della luce in questo caso invece il selettore delle funzioni ci permette di cambiare la temperatura di colore vedi che possiamo variarla al nostro piacimento fino a 2700 kelvin premendo questo selettore possiamo scendere qui e regolare la quantità di verde questa è una cosa che può essere utile perché gli illuminatori led col passare del tempo hanno uno spostamento verde magenta con questo controllo possiamo facilmente venirne a capo premendo brevemente il modo possiamo passare nella modalità hsl e qui premendo invece il selettore possiamo regolare la saturazione oppure la tinta portiamo la saturazione al massimo e andiamo a fare il nostro solito giretto per farti vedere i colori che possiamo fare come vedi è piuttosto intenso ed anche bello bello saturo ma oltre a questa possibilità ti faccio vedere che noi per esempio prendendo questo bel blu possiamo comunque variarne la saturazione fino ad arrivare ad una luce potenzialmente bianca è chiaro che se cerchi della luce bianca è meglio metterlo nella modalità cct quindi quella che ti permette di variare la temperatura di colore e infine abbiamo gli effetti che possiamo cambiare con il solito selettore e tieni sempre presente che l'altro potenziometro regola sempre e comunque l'intensità ora siamo di nuovo al massimo questi sono i flash dei paparazzi e possiamo continuare a scorrere i vari effetti questo dovrebbe simulare le luci di una discoteca vedete anche insomma quanto possano essere attendibili le indicazioni la candela la televisione i fuochi d'artificio i fulmini il fuoco l'ambulanza sempre ovviamente americana la macchina della polizia un carosello lungo tutto lo spettro hsl veloce e lento e poi ricominciamo con i flash quello blu quello verde e il rosso da cui avevamo cominciato nel complesso mi sembra assolutamente un bel prodotto è ben costruito tutto in metallo robusto l'intensità è piuttosto elevata specialmente considerando le dimensioni ora lo sta vedendo al 15 per cento ma vedi che salendo ora siamo al 100 per cento l'intensità è davvero consistente specialmente considerando le dimensioni del apparecchio e ti dicevo tutto in metallo il display piccolino ma comunque efficace i comandi non saranno i meglio realizzati nella sua categoria ma è comunque facilmente utilizzabile magari qualche incertezza ogni tanto nel selezionare le varie voci ma nulla di cui preoccuparsi per il resto considerato il costo credo sia difficile chiedere di più grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti